buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dalla casa lì ci siamo spostati a nantes e oggi ce la siamo presa veramente con calma perché questa mattina quando ci siamo alzati c'era un tempo bruttissimo diluviava pioveva tirava vento faceva freddo quindi stavamo anche pensando di non venire per niente qui a nantes e poi però durante la strada abbiamo visto che comunque il tempo è migliorato e quindi di conseguenza ci siamo fermati vorremmo fare una visita un po approfondita della città ma abbiamo visto le previsioni e oggi pomeriggio dovrebbe nuovamente ripiovere quindi per il momento siamo venuti alla gallerie des machines che è praticamente tutta questa vecchia fabbrica che è stata completamente riadattata dove ci sono tantissime attrazioni tantissime installazioni tra cui il famosissimo elefante di nante una cosa che consiglio per chi ne avrà la possibilità di poterla visitare bene con calma nante ha una linea verde che delinea tutti quanti i posti più importanti da vedere ci sarebbe da vedere anche la cattedrale ci sarebbe da vedere anche l'ex fabbrica di biscotti vediamo un attimo che cosa riusciamo a fare per il momento qui è tutto al coperto quindi siamo siamo a riparo quindi godiamoci la giornata per per quel che anche perché poi nante noi l'avevamo scelta con una tappa intermedia perché poi ci serveva per arrivare alla loira perché domani saremo in loira però cerchiamo di visitare il più possibile intanto iniziamo subito con l'elefante iniziamo subito iniziamo subito iniziamo subito iniziamo subito iniziamo subito Grazie a tutti Allora ragazzi è stata un'esperienza divertente perché abbiamo visitato il museo delle installazioni meccaniche Era tutto a tema animali come avete visto Siamo andati a vedere poi il laboratorio dove però non era possibile fare video, fare foto, nulla di nulla E poi quando siamo usciti abbiamo visto questo immenso elefante che praticamente fa un giro come già vi ho detto prima intorno a questa struttura E la cosa divertente è che spruzza l'acqua Niente adesso il tempo sembrerebbe ancora reggere quindi continuiamo il nostro giro Ah dimenticavo il costo del biglietto è di 8,50 euro Allora 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 Ragazzi sembra quasi un miracolo ma c'è un po' di sole oggi Abbiamo preso tanta acqua prima però va in modo alternato Prima piove forte poi rallenta adesso finalmente è uscito anche un po' di sole Comunque noi stiamo girando per la città devo dire che è molto carina Un po' di curiosità di questo posto innanzitutto dobbiamo dire che è la stessa città più popolosa di tutta quanta la Francia Infatti conta quasi 300.000 abitanti Altra caratteristica di questa città è che potenzialmente poteva diventare una nuova Venezia Perché in realtà non tanto nella parte centrale della città quanto quella un pochino più esterna Che poi in realtà è quella dove stiamo camminando noi Scorrevano degli affluenti della Loira Venivano praticamente solcati da delle barche per poter portare merci comunque per creare dei collegamenti da una zona a un'altra Soltanto che poi non abbiamo ben capito per quali motivi presumibilmente dovuti al progresso tecnologico Quindi all'invenzione delle macchine però non siamo proprio certi di questa motivazione Sa di fatto che si decise di interrare tutto E si interrarono tutti i canali Infatti tutto questo spazio verde che voi vedete alle mie spalle e che continua fino giù Altro non era che il letto del fiume E col fatto che poteva diventare potenzialmente una nuova Venezia Visto che c'erano i canali che passavano per la città perché poi la città comunque si è sviluppata molto di più rispetto a come era prima Molto probabilmente si staranno ancora mangiando le mani per questa cosa E vabbè niente sta ripiovendo C'è stato il sole per tre minuti Autonomia, tempo Sì tre minuti e vabbè dai Ma non Sì no ogni tanto ecco questa è una cosa è vero Che nelle città francese ogni tanto arrivano un po' di puzze Sembra tipo Atalandia Non si fanno il bidet Eh forse è per quello Non si fanno il bidet Che schifo Un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.